io voglio fare la domanda all'assessore io non ho costituito perché ho votato a voto l'associazione del comune però l'assessore mi sembra che sia stato un precursore io ho votato a voto proprio l'eccesso dall'unione dei comuni della... io ho votato a voto io ho votato a voto io ho votato a voto il comune d'Italia ha lasciato l'unione dei comuni della Marucci, cosa che non è stata mai detta e se volete potete anche verificare 250.000 euro con il nostro recesso ci è costato 250.000 euro ok? poi siamo usciti perché i motivi li sappiamo non è inutile che riuscire se ci ricordi sarebbe nulla ma li sappiamo poi abbiamo aderito all'unione dei comuni alle Teatini delle condine Teatine aveva esatto per il semplice motivo che c'era la regione ci avrebbe dato 20.000 euro per la formazione stop chiuso bene chi vado a favore volevo dire qualcosa anche su questa stessa no San Vicenzo e quelle aree sono contrario all'uscita ma per una questione di l'unicina innanzitutto perché credo che il fatto di stare in un'unione non è legato diciamo alla territorialità nel senso di confinare con un altro paese ma semplicemente a condividere alcuni aspetti alcune funzionalità purtroppo quelle che erano le intenzioni dei legislatori di creare dei macroaggregati che facessero economie di scala e rendessero alcuni servizi più funzionali nel corso del Tati ci sono rivelati fallimentari sia per quanto riguarda una cucina che mi risulti sia andato completamente e sia per quanto riguarda anche le colline di adine laddove la struttura è ancora in piedi ma la funzionalità di alcuni servizi probabilmente lascia ancora a desiderare o addirittura non sono stati ancora attivati per cui il fatto di recedere per queste motivazioni francamente ritengo estremamente sottile evidentemente in posti c'erano una parte di motivazioni che di paolo bene ma al di là di una scelta politica l'amministrazione se ne assumono le responsabilità ci mancherebbe e altro io ripeto sono contrario spero che quello che iniziamo con il consiglio che probabilmente se mai non devo però non lo devo dire da un anno non ne ho mai partecipato non hai da fare due convocazioni non ci sei stato mai due convocazioni peraltro convocare a brevissima distanza quindi se non ci sono diciamo se non ho potuto essere presente da questo punto di vista me ne scuso ma ho avuto altri impegni quindi siccome le convocazioni sono abbastanza comunque domani sera sarò presente diciamo all'assemblea ma voglio ritornare diciamo nel merito dell'aspetto per dire sostanzialmente questo che il legislatore a livello nazionale e di conseguenza anche credo che creerà una serie di presupposti affinché queste tipologie di strutture possano essere più funzionali e ancora più grandi proprio perché nel realizzare quelle economie di cui abbiamo bisogno nella spesa pubblica probabilmente attività di questo tipo sono perfettamente funzionali speriamo che il protagonismo e le aspettative per il proletto personale nel senso negativo di molti amministratori possano essere messi da parte a fronte del bene comune che bisogna perseguire io non sono d'accordo perché come dice il sindaco avere un'unione dei comuni con dei paesi che non sono convenzionali secondo me crea in questa chiedone lo so ma non è comunque un casa candidata un pretore la gestione di questi servizi ti faccio un esempio a livello logistico per quanto riguarda se uno potesse consorziare il servizio per esempio di polizia urbana oppure consorziare l'ufficio tecnico è la stessa cosa avere dei comuni confinanti come Canosa e come Giuliano Dattino oppure come casa candidata pretoro e Rocca Montegliano un vigile che deve fare il servizio a Giuliano Dattino a Giuliano Dattino a Canosa e andare a fare il servizio a Casa Canditella a Ari i patri e villano la stessa cosa credo che non sia la stessa cosa non c'è quella di spazio va bene allora io voglio dire siccome il recettore consigliere a Bottini è sempre molto sottile quando parla poi non l'avete colto ma poi scusate io ho conto guarda l'affatto che dici tu politico di magari dell'amministratore che di è sottinteso che qualcuno non volendo non potendo magari fare la prima donna in qualche posto allora si cerca altre cose guarda che come io ti dico di principio un'altra cosa praticamente noi uscendo dall'Unione dei Comuni delle Colline della Tire dove ci siamo a pieno titolo perché siamo stati fondatori diciamo dell'Unione dei Comuni dei Colline ci andiamo forze forze perché non è sicuro se ci accetta se ci accetta perché loro pare andiamo a consorziare con Giannotti Giuliani la segretaria quindi facendo neanche la ruota di scorta ad altri comuni come vedi le bellegità di qualcuno non sono vere queste ma dove fammi di dire ma lui è stato molto sì noi stiamo uscendo allora io nell'ultima forza parlato con Petrucci non lo so che si diceva la stessa allora io nell'ultima ufficio di presidenza sono stato eletto vicepresidente e da mesi che mi pregano di fare il presidente questo non puoi chiederle a tutti ti do i numeri di cellulare di fare il presidente quindi veramente vi dovete purtroppo dovete studiare perché le interrogazioni a chi si riferisce ma scusa io invece posso dire che io invece posso dire che chi mi ha preceduto aspirava a farlo non c'è riuscito e quando l'ha capito si è completamente disinteressato chiedete agli stessi ti do i numeri di telefono perché me l'hanno detto quindi io semplicemente perché lavoro tanto perché sono quelli io sono stato eletto vicepresidente ma contro voglia quindi già ho avuto puoi chiedere domani se perché se è vero questo la verità è che noi siamo abituati forse anche per quello che veniamo premiati ad affrontare le questioni l'uscita dall'unione del comune fu un capriccio non c'era una ragione perché i vigili sbagliando della Maruccina venivano qua e facevano le morte siccome c'era una strana abitudine faremo le morte i vigili ciò che anche i nostri vigili non fanno li vedo pure presenti ma loro sanno quanto io vorrei che li facessi in maniera tranquilla però ci avevano questi vigili che facevano molto guardate il strano e quindi se ne vanno se ne vanno quella è stata la vera ragione quella è stata la ragione che sanno tutti oppure per avere per fare il presidente questa era la ragione altre non ne vede che cosa c'entriamo noi con casa che è un comune che ci ha messo in mezzo ai guai nel consorzio che non ha mai pagato allora quindi noi oggi io ho fatto un errore lo ammetto perché se avessi se se avessi seguito Di Paolo Rino Claudio e gli altri staremmo meglio perché io mi ho detto usciamo subito e staremmo meglio perché Giuliano Teatino voi dove sarei io non ho segreti Giuliano Teatino ha telefonato prima a me che vuoi fare aspetto un po' vediamo intanto se n'è andato con Crecchio e con Calusa oggi non so se ci vogliono però abbiamo la riserva di arieli con cui non confiniamo quindi sarebbe un ripieno però meglio noi arieli che noi con San Martino sono Amalucini che veramente io quando vado a fare le riunioni a casa le incontrate ho fatto un'ora prima quindi è assurdo oggi io ho sbagliato ammetto di aver sbagliato perché avremmo dovuto recedere subito oggi stavamo più tranquilli però siccome c'erano dei rapporti anche per non e l'ho ripetuto anche prima abbiamo fatto questo però oggi lavoreremo affinché ci mettiamo insieme con comuni con termini a noi ma io riflettendo mezzo si guardano proprio ma io credo che stiamo facendo un discorso forse da vecchi politici questa sera e del perché si fa sempre di abbattere questi caconsoni questi e per lecce ti vuole ricordare che per lecce no ma io sono per una vasta area per una macro area non per una micro area tra i comuni facciamo un presidente il vicepresidente non prenderò niente no va bene noi dobbiamo andare un po' con più alpiezza con più respiro a più queste sue decisioni che devono nascere non essere restrittivi la nuova politica è basata nell'eliminare più microstrutture e avere delle grandi strutture quindi noi dobbiamo adoperarsi per creare le stazioni di molti comuni dove c'è la parte centrale e la manucina no no io dico di più comuni non sto dicendo di più comuni ma di farne dieci comuni certo in questi momenti passando dai 5.000 abitanti in zotto unirsi è obbligabile unirsi c'è la legge anche le leggi si porteranno altrimenti i legislatori si porteranno si stiamo dicendo siamo siamo molto agroginoso va bene chi vota a favore chi si astiene chi vota contro la minoranza allora mediante nessun di ricarsi così lo portiamo chi vota a favore la maggioranza la minoranza ottavo punto così alla fine nomine componenti della consulta dell'agricoltura la parola a Claudio Radica per l'illustrazione del e poi al dottor Rapottini per allora Claudio regge tra degli esperti che nominiamo ora praticamente c'era l'istituzione della consulta comunale per l'agricoltura c'era c'è un po' legge di un escluso no no legge tu praticamente allora il presidente è il sindaco di avuto giustino che è consigliere comunale maggioranza la rica consigliere comunale di maggioranza manca quello di finora allora è dovuto un'audizio no no consigliere carmine la la bottiglia di carmine consigliere di minoranza tisiano diciamo disegnato dalla maggioranza Lirio Felizi disegnato dalla maggioranza Andrea Palombaro disegnato dalla maggioranza Luca Medeo disegnato dalla maggioranza Antonio De Miglio disegnato dalla maggioranza Maurizio Cavuto disegnato dalla minoranza Silvio Cavuto disegnato dalla minoranza Qui sono gli esperti che abbiamo concordato. Qui sono gli esperti che abbiamo concordato. Grazie anche al consigliere Lappottini e Palladini per aver salutato i nomi degli esperti. Grazie. 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 Il testo della delibera non è farina del nostro sacco ma ci è stata inviata dal coordinamento delle associazioni che ha promosso la manifestazione del 13 aprile a Pescara. E' un testo che noi abbiamo fatto nostro. Il testo della delibera non è corretto e se si dice carnevalate a persone che hanno lottato, che hanno fatto capire anche alla loro minoranza che non andava affatto a quel progetto dell'Eni e ahimè qui la politica o le politiche, noi ci ricordiamo delle situazioni, non ci ricordiamo. Se siete stati costretti ad approvare al primo consiglio comunale quelle che noi abbiamo proposto, tu certi concetti, io guardo, abbiamo andato tutti quanti d'accordo su certe cose, però evitiamo alcuni aggettivi di essere un po' forti. No, qui nessuno non vuole ricordare, però è stata fatta quella manifestazione perché in realtà è una cosa seria, la nostra sensibilizzazione ha fatto vedere a tutti che quella è una scelta sbagliata. Io ho vissuto tutti i momenti, sono andato anche all'acqua, mi ricordo quanta realtà la sinistra aveva preso un po' in giro tutti quanti, gli amici tutti, anche quelli della sinistra che erano lì presenti, che non volevano, volevano votare un altro giorno diversamente da quello che era. Io stavo lì, quindi ho vissuto con l'ex senatore, adesso non mi viene delle socialiste piacere, no, nella realtà è il passato, è il passato, però non cerchiamo di essere un po'. Noi siamo stati coloro che hanno svegliato le sensibilità su quel momento politico e non ci si può non riconoscere che se lo Stato fa autore di quell'evento positivo. Io firmerei, e lo dico, se si dovesse fare un ricorso al Tali, lo firmerei, altre cose che voi non avete fatto, quindi questo mi riferivo al fatto che si fa, non è stato fatto come altre cose che si fa, non è stato fatto come altre cose che si fa, i fatti sono fatti. Non voglio, quindi, poi non c'è cosa mi fa capire, ma, eh, non voglio tutti i fatti, mi riferivo alle maschere, mi riferivo alle cose, a quelli che mi riferivo, non alle altre cose, però il campagna elettorale, come tu lo puoi fare io la posso definire carnevalata, perché poi quando il sindaco doveva firmare il ricorso, Luciano D'Alfonso di Fescar l'ha fatto, Angelo Giallo Renditore non l'ha fatto, punto. Questo è un fatto. Ho ricordo, quando si erano accorti i soldi all'hotel Mor69, erano cinque persone, c'era un autore cavallieri e baci, baci, baci. contano gli altri infatti sono poi non avete fatto il quale bisognava la rete per la questione del terreno firmato per mettere i soldi da più sentire la legge pare che la fatica mille d'alessandro che non penso anzi nel tuo partito come poi tu ci sei dove poi tu nella notte di una notte di san paolo che sei angelo io sono di qui sentivo la parola ma adesso è vero o no che angelo ce l'ho rete una felicità davanti ai cittadini ha firmato il ricorso no so che è molto assente ma sono anche distratto mi sembra angelo vedi tu a un certo punto e poi ti perdo non mi perdo ma non puoi dire voi eravate assente da chi? da dove? ma da qua? ma chi l'ha detto? ma se non ti andiamo a rafforzare siamo stata a voi andiamo a rafforzare sta a posto apprezzo che c'è la prima genitura mi hai fatto capire che compiere sta a posto allora chi vota a favore? si scusa no io praticamente la considerazione che hai fatto riferendosi al 2007 come una carta avvalata è ingenerosa ed è ingenerosa nei confronti di chi quella battaglia quella lotta ha iniziato in maniera importante e che poi è servita all'alimentare tutto quello a cui oggi siamo arrivati perché è ingeneroso nei confronti di Mauro Di Mauro è ingeneroso nei confronti di Luigi Di Berio è ingeneroso nei confronti di Davide Colazzilli che all'indomani del confronto elettorale in cui questo argomento fu utilizzato e sappiamo credo che tutti quanti ci ricordiamo le posizioni di allora ma quelle persone a loro spese andavano a biggiano andavano a rendersi conto di quella che era la situazione legata a questi insediamenti petroliferi redassero un video e grazie a quel video si fece un salto di qualità nella lotta contro la petrolizzazione di quest'area e la realizzazione del centro euro grazie a quel documento che ci fece rendere conto di che cosa si andava a insediare e cui i politici di quel momento avevano condiviso il percorso amministrativo seppur con delle fallanze che da un punto di vista giuridico non sono mai state toccate quindi è ingeneroso nei confronti di quelle persone alle quali va la mia gratitudine e credo la gratitudine di tutti questi territori e si deve allora questo merito e condivido quando alla manifestazione parlando con Mauro lui così semplicemente mi diceva che il suo compito era finito perché aveva dato origine a questo percorso che si era sviluppato, si era autoalimentato e oggi si è concretizzata una manifestazione contro la petrolizzazione dell'Abruzzo che ha coinvolto 250 associazioni che ha portato 20.000, 30.000, 40.000 persone a Pescara a manifestare per cui lo ripeto è una considerazione ingenerosa, allora tutti quanti sapevamo le nostre posizioni tutte le persone che sono state dotate di buona volontà si sono impegnate e si stanno ancora impegnando in questa lotta che probabilmente non è ancora finita ma sulla quale credo che per come eravamo considerati da chi veniva a insediarsi su questo territorio credo sia stata una battaglia di civiltà è una battaglia vinta perché abbiamo dimostrato che siamo persone che ci tengono al proprio territorio e non siamo un paese dove è facile insediarsi, queste erano le considerazioni dell'ENI di allora però lo ripeto, quelle persone vanno ringraziate come vanno ringraziate tutte quelle che si sono impegnate e da questo punto di vista come amministrazione seppur c'è questa macchia che rimane sull'amministrazione precedente credo che abbiamo fatto tanto in questo senso e dall'inizio impegnandosi personalmente al di là delle risorse e del tempo disponibile perché in quei momenti tante persone rinunciavano ai propri interessi per cercare di difendere gli interessi collettivi e di fronte a questa cosa non ho avuto mai occasione di discutere però in questo momento credo che sia giusto ricordare i vari processi e un augurio a chi continua a portare avanti questo impegno che credo che sia un impegno civico che condividiamo e nei confronti del quale siamo perfettamente solidari per cui nel merito della delibera condivido personalmente tutto quanto riportato perché naturalmente sono attività che vanno in contrasto con quelle che sono le basi per lo sviluppo di quest'area territoriale che dell'agricoltura e dell'agroindustria ha fatto, fa e farà un elemento di crescita e di sviluppo del proprio territorio per cui sono attività incompatibili non ce le vogliono gli imprenditori che sono dietro a queste società ma noi abbiamo da percorrere un percorso differente e differenziale rispetto a questo e non possiamo che condividere qualsiasi altro che si oppone all'insediamento in queste aree sia in mare sia a terra di attività di attività ultimo punto nomina del presidente del consiglio ciao allora la proposta del presidente del consiglio il gruppo di maggioranza propone la vota che ho fatto in giro a tutti i scutatori bene ok ci sono due scutatori ci sono altre candidature gli scutatori che sono perché ma quella non è l'età di no no io e carmine prima di andare alla sì sì intanto si prepara voglio fare alcune considerazioni sono proprio nel ribadire in questa serie quelle motivazioni che sono motivazioni di ordine concettuale tollo è un piccolo comune che ha visto ridursi il numero di consiglieri da 16 da 7 per cui la figura del presidente del consiglio che non era è stata inserita nel vecchio statuto tantomeno ha una legittimità e una giustificazione nella situazione che si è venuta a trovare ma la cosa che identifica ancora più precisamente il concetto di contrarietà è espresso nelle funzioni che ha il presidente del consiglio nell'ambito di questo comune il presidente del consiglio in tutti gli altri comuni ha la facoltà di convocare il consiglio comunale a propria disponibilità in questo comune nello statuto il presidente del consiglio convoca di concerto con il sindaco quindi significa che è una figura tutelata dal sindaco nel senso che non può convocare il consiglio se non di concerto con il sindaco quindi da questo punto di vista non se ne vedono le funzionalità che dovrebbe svolgere da questo punto di vista non posso che essere contrario ma non per questioni né personali né diciamo lavorative perché lo ripeto ho convocato proprio Cittarese una persona che stimo però da questo punto di vista la figura del presidente del consiglio comunale in un comune come il Toro per come è espressa per come esemplificare lo statuto non ha nessuna sezione per cui lo ritengo al di là del costo che il sindaco ci ha già detto che sia praticamente nullo però non può che diciamo non può portare elementi positivi all'attività del consiglio comunale lo ripeto proprio da un punto di vista personale è anche una svalutazione di quella che è la tua figura che sarà la tua figura da presidente del consiglio comunale del consiglio comunale assolutamente no non sono nemmeno stato eletto come vogliamo parlo prima di essere eletto potrei non essere apprezzo la capacità di arrambicarsi sugli specchi del consiglio della bottiglia che ha fatto anche un discorso che può sembrare anche se uno non legge tra le righe può anche crederci diciamo ma è un modo per dire no quindi prima uno dice no e poi trova le argomentazioni prima di tutto lui aveva pronosticato la bocciatura di questo statuto ve lo ricordate ma io ve lo ricordo in un consiglio che riprenderemo a fare all'aperto perché credo che la partecipazione oggi ci siamo anche comprati l'impianto e invece di affittarlo l'abbiamo prestato per la prima volta anche dall'associazione sportiva che è tantissima che ha tirato un invece di affittarlo ce lo siamo comprati quindi non abbiamo altri posti aveva pronosticato che questo statuto venisse bocciato ma so che lui si occupa di agronomia quindi qualcun altro che l'aveva suggerito quindi da questo punto di vista ti capisco perché non era sicuramente una farina del tuo sacco poi avrei avuto qualche consiglio invece lo statuto è stato approvato giusto segretario deliberato abbiamo aspettato tutto il suo tempo perché volevamo essere sicuri spero che un'altra previsione un po' che lui conosce non si verifichi perché diciamo che lui è una cosa che ha pronosticato speri che non si verifichi ma ne sono certo qual è la funzione del consiglio il primo io ritengo che Miglianico che anche dall'amministrazione di centrodestra ha il presidente del consiglio Miglianico c'ha 5.600 abitanti di noi c'ha 4.800 fatto dall'amministrazione Mincone a Mincone a Mincone che non mi risulta sia un bolscevico pericoloso qual è la funzione della logica? perché noi quando facciamo una cosa non la facciamo perché abbiamo perché la logica il sindaco viene eletto direttamente dal popolo infatti io sono stato come mio predecessore come si dice proclamato alle 8 della domenica del lunedì e quindi riteniamo che il sindaco debba anche dire qualcosa nella convocazione del consiglio anche perché segretà scusa ma che il consiglio il presidente del consiglio convoca il consiglio senza che lo sa il sindaco senza che gli dici gli argomenti cioè è evidente che lo fa d'intesa con la conferenza di capigruppo di solito dove esiste e lo fa col sindaco il presidente del consiglio convoca lui quelli che gli fa e che ne sa dell'attività dell'amministrazione della giunta di fatto qui molti dei provvedimenti rendi conto di gestione all'ipoteimu sono proposti dall'aggiunta secondo quindi è normale che ci sia questa condivisione noi l'abbiamo voluto rendere palese esplicito seconda questione è evidente che il ruolo del presidente del consiglio vedi dall'ambicatore sugli specchi ti ha fatto perdere vero obiettivo e anche di di frenare il sindaco perchè il sindaco oggi il presidente fa quelli che gli parlano nel rispetto dell'evolamento parla quando vuole oggi lo farà un'altra persona è evidente che è evidente che è evidente che lui anche se è stato eletto nella nostra fa parte della maggioranza ma è super part e io ti prego e ti invito ad essere super part a essere tu sei il sindaco state guardando come se fossi già stato no non lo sono ancora no è evidente che è evidente che tu devi rappresentare tutti i consigli quindi ecco perché io mi sarei aspettato di dire ok visto che non costa niente il presidente del consiglio c'è è nemmeno una falsa e io che sono minoranza mi sento garantito perchè il sindaco come dice palladini spesso si perde quindi dovresti dovresti votare a favore va bene va bene ma tu mi hai fatto capire il centro oliva io apprezzo la tua elezione grazie e quindi mi dici quando sbaglio allora dicono c'ho anche il fratello mangiato va bene e quindi queste sono le motivazioni il Fabio Civitarese non prenderà nemmeno un euro più di quello che prende oggi quindi non si capisce perché solo se ti dobbiamo comprare la fascia lo fai fare da tua mamma e risparmiamo tu non la fascia perchè se non lo fai bene procediamo alle operazioni di votazione perfetto e quindi dobbiamo camminare un altro scudatore giusto? no siamo un bene elettorosi no se non partecipa il voto come si fa lo scudatore? lo fa il giustizio giusto? si, si ma si si va bene ma qui si può essere rimanendo è lo scattore che rimanendo è si 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 ma arrivederci no ciao 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 la rivoluzione contro l'onzato è avendo la rivoluzione per gestire a fare lo sport io mi arrivo a fare lo sport già l'esercizio no vieni aiutato il gestore è preparatissimo che ne sa ci dare ci dare civitarese 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 fabio sei un applauso un valore di ringraziamento soltanto perché la mia nomina arriva a termine di un consiglio mi spiace che sono andati via i due consiglieri di minoranza in quanto oggi adesso potrei rispondere semplicemente a carmine dicendo che la mia è semplicemente una figura come chiede tra l'altro il ruolo che rivestirò una figura di garanzia anche per la minoranza soprattutto per la minoranza a costo zero percorso non quasi zero zero semplicemente grazie buona serata grazie 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 Grazie.